Benvenuti al nostro TG Sport. Cari amici di Telemolisi, iniziamo con il campionato di Serie D. Serie D, Gironeffe, 27esima giornata, Vezzano-Mattese, Fano-Campobasso, Fossombrone-Chieti, Riccione-Montero-Tondo, Roma-Siti-Senigallia, San Benedettese-Notaresco, Sora-L'Aquila, Tivoli-Atletico-Ascoli, Vasso-Girardi-Termoli. Trasferta a Fano per il Campobasso, Marchigiani in difficoltà e in cerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Il Campobasso punta ad ottenere il successo pieno. Ancora out Nonni. Rosso-Blu al Mancini di Fano, dove per Golizzi potrebbe varare una formazione tipo, anche se di esperimenti, ne ha praticati molti in settimana. Una maniera per tenere tutti sulla corda, con tensione alta, ma anche per coinvolgere nell'impresa tutti i giocatori. Il Fano di Manoni proviene da una rovinosa sconfitta all'Aquila, in cui la sveglia è suonata troppo tardi per i marchigiani. Come il Campobasso, anche il Fano ha le sue velleità di classifica alla vittoria. È un risultato quasi imposto ad entrambe. Stagione complicata per i fanesi, dalla vittoria dei play-off lo scorso anno al terz'ultimo posto attuale. Il passo è stato troppo breve. Poi la crisi societaria, con le dimissioni del presidente russo e ben tre allenatori, di cui Manoni, l'ultimo, ha esordito con una vittoria 5-1 ai danni del Chieti. I giocatori rosso-blu seguono il martello per Golizzi e hanno da compiere ulteriori passi verso l'obiettivo che la città ed il Molise e rosso-blu attendono. Un'espressione non a caso quest'ultima, tenuto conto dei pellegrinaggi, chiamiamoli così, della dirigenza in giro per la regione e con tanti comuni che stanno chiedendo di ricevere la visita delle delegazioni rosso-blu. Ieri la dirigenza ha fatto tappa a Montagano, una maniera forte per accostare sempre più persone alla causa del Campobasso. All'andata alla partita contro i marchigiani del Fano fu decisa da un gol di Di Nardo. Bonacchi è un ex di turno. Saranno circa 300 i tifosi al seguito del Campobasso, un numero di tutto rispetto se si considera la distanza di 400 chilometri dal capoluogo del Molise. meno otto partite, ormai assimilate tutte a delle finali ineccepibili. Il Campobasso dal K.O. di L'Aquila in poi. Per Golizzi chiede ai suoi di continuare a battere lo stesso cammino. A partire dalle 14.30, Fano Campobasso sarà diretta da Picarti di Viareggio. Al Ditella il derby tra Vasto Girardi e Termoli, gara delicata per i gialloblu che cercheranno il successo per sperare di giocare i play-out. Primo di due derby consecutivi per il Vasto Girardi si partirà domani in casa contro il Termoli. Domenica prossima poi gialloblu di Scena al Selvapiana di Campobasso. Quella in programma al Ditella è una sfida da non fallire. In palio ci sono punti fondamentali in chiave salvezza. Gli altomolisani devono abbandonare quanto prima l'ultimo posto in classifica, condiviso col Matese. Le gare a disposizione sono poche e complicate. Per questo sarà fondamentale affrontare ogni partita con la giusta grinta e voglia di raggiungere insieme l'obiettivo. L'avversario di domani scenderà sul rettangolo verde amico con il dente avvelenato, alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di misura nell'ultimo turno e per riprendere la corsa alla salvezza diretta. La squadra di patron di Lucente dovrà far valere il fattore casa per cercare di conquistare l'intera posta in palio. Per quanto riguarda la formazione, mister Marmorini potrà contare su tutti i suoi uomini. Rientrerà dopo due giornate di squalificanto Giovanni, da valutare però la sua presenza in campo dal primo minuto. Casacca numero uno per Servalli, difesa composta da Tocco, Ruggieri, Panaro e Filì. Al centro del campo Iacullo c'è Cuzzi e probabilmente Acunzo, in avanti Caon, Ramos, Lopez e Fontana. Cento italiani in prevendita messi a disposizione della società adriatica con fischio d'inizio alle 14.30. Al di Tella sarà Cristian Nubaldi di Fermo a dirigere i 90 minuti tra Vasto Girardi e Termoli. Assistenti Angelo Spoletini di Rieti e Alessandro Pascoli di Macerata. Obiettivo simile per il Termoli in corsa per il mantenimento della categoria senza passare dagli spareggi. In casa giallorossa la sconfitta interna per mano della vicecapolista sanbenedettese ha lasciato l'amore in bocca e tanta rabbia, specie dopo l'inizale vantaggio, ribaltato nel finale dai marchigiani. Ma non c'è tempo per recriminare. Bisogna rialzarsi subito e l'occasione arriva già domani, quando in programma il derby contro il Vasto Girardi, vero e proprio snodo fondamentale per la stagione del Termoli. Un successo vorrebbe dire tre punti pesanti verso la salvezza. Un eventuale K.O. rimetterebbe tutto in gioco. In Riva all'Adriatico si ha la consapevolezza dell'importanza di questo delicatissimo match per entrambe le formazioni. Vietato sbagliare, in basso Molise si è lavorato molto duramente tra palestra e campo per preparare al meglio questa importante sfida. La prima di otto finali, come ripete il mister, da affrontare al massimo. Bisogna conquistare più punti possibili, anche in trasferta a cominciare da domani. Tornando al campo sono tutti a disposizione e l'undici che affonderà Ruggeri e Resoci è pressoché fatto. Maresca in porta, Capitano Sicignano a guidare la difesa con Uzzol e Cagliazza. Centrocampo titolare scoppa Longo, Garzia e Ciò. Nessun dubbio in attacco, Bursio ed Hernández dall'inizio. Pronti dalla panchina ad entrare Esposito e Usfar. Nel match d'andata, giocato sul terreno del Cannarsa, successo ospite per 2-0, firmato Caon e Ceccuzzi. Calendario molto complesso per l'FC Matese. Domani trasferta ad Avezzano, poi gara casalinga contro la San Benedettese. Domani si scenderà in campo per la 27esima giornata di campionato e allo Stadio dei Marzi si disputerà il match tra l'Avezzano e il Matese. Reduci dal successo di misura firmato da Galessio contro il Fossombrone, il Matese viaggerà alla volta del vicino Abruzzo con il solo obiettivo di dare continuità. A poche giornate dal termine del campionato, i Verde Oro necessitano di punti fondamentali in ottica salvezza. La strada da fare è ancora tanta, l'importante sarà non perdere di vista l'obiettivo iniziale e conquistare quanti più punti possibili per abbandonare l'ultimo posto in classifica, nel quale il Matese risiede con un piccolo bottino di 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte. La truppa Verde Oro domani avrà di fronte a sé un avversario decisamente forte, l'Avezzano al quarto posto in classifica con sulle spalle 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, l'ultima rimediata contro la capolista Campobasso. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico Matesino potrebbe proporre Rinaldini tra i pali, difesa composta da Filosa, Gaiardini e Cassese. Al centro del campo, Langellotti, Ricamato, Russo e Lesi. Attacco composto da Passewe, Napoletano e Manfrellotti. Domani, con fischio d'inizio alle ore 14.30, Venta Vezzano F.C. Matese sarà arbitrata da Emanuele Waldaman di Frosinone, assistito da Pietro Serra di Tivoli e Lorenzo Caggiola di Roma 1. Atletica Leggera si terrà dopo domani alle 17 presso la Sala Conferenze Tonino Bussone del CONI, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di Società di Marcia, manifestazione organizzata dalla FIDAL con il patrocino del Comune della Regione Molise, del CONI e di Sport e Salute. Attesi i nomi importanti del movimento, tra cui Francesco Fortunato, già olimpionico a Tokyo. Adesso il basket di serie A1. Basket femminile di serie A1, ventunesima giornata, oggi alle 20, Dinamo Sassari-Milano, domani alle 17, Battipaia, San Martino di Lupari, la Molisana Magnole a Venezia, Ragusa-Brixia, alle 18, Schio-Faenza, a martedì alle 19 Roma Basket Bologna, riposa a Sesto San Giovanni. Al Pala Selva Piana, la Molisana Magnole affronterà domani la leader Reier Venezia, una gara dal sapore speciale per Martina Caceric, ex di giornata. A poco più di un mese dall'inizio della post-season, continua la corsa delle 13 squadre verso i loro rispettivi obiettivi stagionali. Il ventunesimo turno vedrà la Molisana Magnole a Campobasso, impegnata all'arena contro la leader Venezia. Proprio le Lagonari sono sempre andate a segno, subendo un solo stop in tutto il campionato contro Schio. Finaliste in Coppa Italia e semifinaliste in Euro Cup Supercoppa. La Molisana ritroverà il parquet dell'arena dopo il successo di Melano, per una gara dal sapore speciale, ben tre le ex di giornata, Martina Caceric sul versante rosso-blu, Gaia Gorini e Giuditta Nicolardi tra le Venete. Una contesa dall'alto livello di difficoltà, le Campobassane guidate da coach Sabatelli cercheranno di riproporre la fluidità di gioco che ha caratterizzato la partita contro Milano. Il team reierino affidato ad Andrea Mazzon potrà contare invece su un organito di assoluto spessore, sia tra le italiane che tra le straniere, ed arriverà nel capoluogo molisano per riprendere il cammino e concentrarsi con forza solo sul campionato dopo gli stop in Euro Cup contro Londra. Forti della propria difesa, le rosso-blu dovranno limitare al massimo le giocate avversarie, dando il massimo in attacco. La compagine di coach Sabatelli avrà la responsabilità di mantenere la quinta posizione, evitando così di venire scavalcata. Ma ospitare la capolista e uscire con una vittoria comporterà sudore e sacrificio. Per il trainer Campobassano, peraltro, nelle scorse ore, c'è stata la nomina ad assistant coach della Nazionale Sperimentale, che da lunedì a mercoledì sarà il raduno a Castel San Pietro Terme. Tra le 16 convocate anche la rosso-blu Emma Giacchetti, mentre sempre in Emilia Stefania Trimboli con il gruppo di 3 contro 3 proverà a cavalcare il sogno olimpico verso le Olimpiadi di Parigi di quest'anno. La gara tra la Molisana Magnogli e la Reier Venezia è stata anticipata di un'ora rispetto all'orario canonico, con palla a 2 alle ore 17. La contesa avrà una terna arbitrale composta dal brindisino Angelo Caforio, dal milanese Marco Barbiero e dalla ravennate Maria Giulia Forni. In serie B, la Federazione Italiana Basket ha reso noti i gironi delle finali nazionali Under-19, in programma da lunedì 25 a sabato 29 marzo, nello scenario di Battipaglia per la Molisana Magnolia, inserimento nella Pool A con Venezia e Sesto San Giovanni. Partirà lunedì prossimo da Lecce il percorso di qualificazione alla fase finale dei campionati nazionali universitari in programma nella nostra regione dal 18 al 26 maggio per la selezione di basket del Cus Molise. La formazione molisana, guidata da Rosario Filipponio, è stata inserita nel racgruppamento G insieme proprio al Cus Lecce e al Cus Foggia. In caso di vittoria molisana si giocherà a Campobasso con il Cus Foggia il 29 aprile. Volley Victor Rupil, ex coach della Nazionale Spagnola, in visita a Termoli per osservare le ragazze della società adriatica. Coach Victor Rupil a Termoli per fare una visita alla Termoli Pallavolo, allenatore importante che ha girato il mondo, l'Europa, è stata in Spagna, ha allenato anche la Nazionale, ha girato un po' tutto il mondo. A Termoli perché si è fermato qui, ha trovato questa società, dare qualche consiglio, vedere queste ragazze e questi ragazzi che stanno facendo del loro meglio nei loro campionati. Buono Pino, avanti io voglio ti dire, questo è certo, io ho venuto qui perché io ho un figlio che gioca a pallacanestra a Chia Termoli e ho trovato il coach dell'equipo che mi ha detto e poi venire a avere piacere per me, venire a partecipare a questo e sempre io so che le giocatrice deve stare illusionata di fare qualcosa di differente o avere persone differenti, per me va barbaro. Qualche consiglio lo darà sicuramente a queste ragazze e anche ai ragazzi? Sì, sì, ho stato tutto il tempo con la mia donna, che è anche una giocatora professionale di volleyball, parlando con i ragazzi e con il coach, per le dire tre o quattro cose importanti per fare il sport, soprattutto per le giovani. Certo, a Termoli si è fermato perché c'è il figliolo che gioca a basket, oramai sta diventando Termolese lei. Un giorno dopo che ho finito il lavoro io vengo alla pensione qui. A passare la pensione, e magari si dedicherà a questo sport che tanto bene sta facendo in città. Io non posso separarmi del sport, io ho fatto il sport tutta la mia vita e tutta la mia famiglia, siamo tutti professionali del sport, io ho una figlia che gioca a Francia, a Parigi, è professionale, la mia donna e tutta la famiglia. Sì, io non posso separare la vita del sport. Tornerà ad allenare, a fare il coach? No, 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 io credo che no, come manager di un club per avere e fare che tutto sia una linea di travaglio, di lavoro, penso che sì, penso che sì. Per il pattinaggio si svolgerà domani al Pala Unimol il campionato regionale di corsa in Doar. Le ragazze della società pattinaggio Campo Basso saranno impegnate nelle categorie giovanissime esordienti, ragazzi 12 e ragazzi, circa 150 gli atleti che parteciperanno all'evento. Ora il calcio d'eccellenza. Quattro gli anticipi, Alto Casertano-Fortore, Campomarino-Olimpia-Agnonese, Castel di Sangro-Boiano, Gioiese e Termoli 2016. In campo domani, Guionesi-Sasto-Campano, San Pietro in Valle, Cliternina, Turris-Ripali-Mosani e Venafro-Isernia. Calendario perfettamente diviso a metà, domani al Marchese del Prete, il derby tra Venafro e Isernia. Sei giornate al termine del campionato e ultimo weekend di gare prima delle due settimane di sosta. Il torneo riprenderà il prossimo 6 aprile. Al Marchese del Prete, scontro di alta classifica tra il Venafro e l'Isernia. Il derby sarà una gara dal peso specifico importante. Tre punti che consentirebbero ai biancocelesi di vivere con maggiore serenità alla pausa, ricaricarsi e affrontare il rush finale con la giusta forza e concentrazione. Di nuovo a disposizione di mister Farrocco Monteduro, per il quale è stato accolto il ricorso di ridurre di una giornata la squalifica. Out invece il difensore Barile. L'Isernia scenderà in campo conoscendo già il risultato dell'Aurora Alto Casertano, un fattore non di poco conto per due squadre che puntano alla promozione diretta e continuano ad inseguirsi. Il Venafro dal canto suo è stato autore di un buon campionato e vuole consolidare la terza posizione. I bianconeri cercheranno di sfruttare al massimo il fattore campo e il sostegno dei propri tifosi per ostacolare il gioco degli avversari. Forti limitazioni disposte dal prefetto di Isernia per il derby di vieto di vendita dei biglietti ai residenti del comune di Isernia e tutta la provincia, eccezione fatta per Venafro, Pozziglia e Sesso Campano. A dirigere 90 minuti di gioco il signor Simonelli della sezione di Isernia. Al comunale via Dante Alighieri sarà scontro diretto tra i guglionesi e il Sesso Campano. Un punto separa le due squadre rispettivamente in quarta e quinta posizione in graduatoria. Ricordiamo che il guglionesi nello scorso turno ha giocato solamente 22 minuti contro il Termoli 2016. Il derby del Basso Molise è stato interrotto a causa dell'infortunio del direttore di gara. I restanti 68 minuti verranno recuperati il 3 aprile alle ore 16 allo stadio Cannarsa di Termoli. Uno scontro diretto che vedrà le tue compagini giocare a viso aperto cercando di sfruttare l'errore dell'altro e concretizzando quando più possibile. Direzione di gara affidata al signor Cinalli di Termoli. Per la turista Rotello arriverà il ripalimosani. Mister Bentivoglio ha chiesto ai suoi maggiore coraggio. Una vittoria la scorsa che ha permesso alla squadra non solo di muovere la classifica ma ridare fiducia e morale ai giocatori. La turista avversario ostico e ben allenato. In casa i bianco-azzurri sono riusciti sempre a fare i punti. L'arbitro ha disegnato per questo incontro il signor Corbo della sezione di Termoli. Il match che andrà a chiudere la domenica sportiva, quello tra l'Atletico San Pietro in valle e la Cliternina che apre la Griglia Pre-Out. I padroni di casa andranno alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo. La Cliternina invece è dalle ultime gare in grande ripresa e non intende rallentare. Una partita di fondamentale importanza in questa ultima parte di campionato. Fischietto affidato al signor Fede di Rossano. La Turris cercherà di ripartire dalla partita contro i Ripalimosani per archiviare la sconfitta subita contro la Cliternina. Vittorio Cuomo, Turris battuta a nuova Cliternina. Sotto il profilo della prestazione avete fatto forse un passo indietro rispetto alle ultime settimane. Sapevamo che era una gara difficile anche perché la Cliternina doveva fare punti, però le colpe sono nostre. Non abbiamo interpretato bene la partita, purtroppo abbiamo interpretato male la gara e dobbiamo alzare subito la testa e pensare subito alla prossima partita. Eravate riduci da un filotto di risultati che vi avevano proiettato in una posizione tranquilla di classifica. Cosa è successo? Noi queste settimane stavamo bene, abbiamo dimostrato in campo che possiamo toglierci tante soddisfazioni. Purtroppo è stato un incidente di percorso, ma come può capitare, però dobbiamo alzare subito la testa. Dimostrazione che in questo campionato nessuna partita è facile e va sottovalutata. Infatti secondo me abbiamo fatto un errore grave, abbiamo sottovalutato un po' troppo la partita, però ripeto, adesso bisogna solo alzare la testa e pensare alla prossima gara. Dagli errori si impara, prossima sfida contro il Ripa a Rotello, che gara ti aspetti? Sicuramente una gara tosta, perché come abbiamo capito qua nessuno ti regala niente, però adesso riprendiamo subito martedì gli allenamenti. Mi aspetto una gara dura, ma se giochiamo come abbiamo fatto le scorse partite facciamo bene sicuramente. Ora il campionato di promozione. Gli anticipi, Esernia, Roccaravindola, Juvenes, Torre Maggiore, le gare della domenica, Forulum, Riccia, Montenero, Real Prata, Spinete, Morcone, Trivento, Baranello, Vairano, Calena, inizierà le 15.30, Busso, Altilia, Samnium. Una domenica all'insegna del divertimento, ben sei le gare in programma. Al via oggi la venticinquesima giornata nonché decima di ritorno nel torneo di promozione, il cui palinsesto prevede ben sei gare domenicali. Raramente era accaduto in passato che quattro squadre a sei giornate dalla fine potessero concorrere a sognare il primo posto. Al comando della classifica rimane saldo il Baranello, che dopo essersi aggiudicato il big match contro l'Esernia Fraterna, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per sognare in grande. L'undici di Mr. Viglione domani è atteso all'Acqua Santiani, dove il Trivento non farà sconti a nessuno. I gialloblu sono riduci dal pesante KO del Poce per mano del Riccia e domani scenderà in campo con tutta la voglia di un pronto riscatto, seppur riconoscendo le difficoltà della gara. Trivento Baranello sarà diretto al signor Matarrese della sezione di Termoli. A meno uno dalla capolista, la boys verano continua a non deludere. Dopo aver superato l'ostacolo Montenero, si è ripetuta anche la scorsa settimana sul Torre Maggiore. Due trasferti insidiosi hanno portato nelle casse della squadra casertana ben sei punti, essenziali per mantenere il passo della capolista. Domani i campani ospiteranno la polisportiva Calena nella gara a porte chiuse. L'undici di casa Calenda è attualmente il quarto ultimo, situazione aggravata dall'ultimo KO di 0-3 contro il Montenero. Proprio a proposito degli Adriatici, sono riusciti a rafforzare il terzo posto a meno tre dalla vetta, grazie a questa importante vittoria. Domani al De Santis sarà uno scontro interessante contro il Rial Prata. La compagine ospite attualmente a metà classifica è riuscita a rimettersi in carreggiata dopo lo stop di due settimane fa e lo ha fatto infleggendo una sconfitta di 2-1 al Forulum. In merito all'undici giallo-azzurro, quest'ultimo dovrà necessariamente invertire il trend per riuscire a tirarsi fuori dalle zone calde della classifica e avrà l'occasione di un immediato riscatto già a partire da domani nel match interno contro il Riccia, più agguerrito che mai, forte dall'ultimo successo. Bois Verano Polisportiva Calena sarà diretta dal signor Maselli della sezione di Isernia, mentre Montenero Rial Prata dal signor Di Carlo della sezione di Termole. Della stessa sezione il signor Zurlino dirigerà Forulum Riccia. Scontri di bassa classifica, quelli che coinvolgeranno Spinete-Morcone e Busso Altile-Assamnion. I gialloverdi dimisserdiamente in questo girone di ritorno hanno portato a casa una sola vittoria, quella contro il Forulum. Quella di domani rappresenta un'occasione di tornare al successo nel match casalingo contro il Morcone. La squadra campana, nonostante la sua difficile posizione gradatoria, è riuscita ad imporsi nella sfida casalinga contro il Busso, superandolo in zona play-out vedendo uno spiraglio di luce. Spinete-Morcone sarà diretta dal signor Pio Tamburi della sezione di Isernia. Tornando al Busso, la situazione per Ricciardi e compagni è a dir poco delicata ed insidiosa. Quella di domani però sarà una preziosa opportunità per centrare la seconda vittoria del 2024, le cui sorti sono già quasi scritte nel match decisamente agevole contro il fanalino di coda all'Altile-Assamnion, che invece resta sempre più ultima, con 24 sconfitte, l'ultima subita contro la Juvenes. Busso-Altile-Assamnion, che all'andata è terminato 3-1 per il Rosso-Blu, domani sarà diretta dal signor Pio Ciarlariello della sezione di Termoli ed inizierà alle ore 15.30, mentre per tutti gli altri match, fischio di inizio previsto alle ore 15. Alla ricerca del riscatto, il Trivento, che domani all'Acqua Santiani affronterà la capolista Baranello. Paolo Di Blasio, una sconfitta che però non ha rovinato i vostri piani, perché comunque continuate ad essere nella zona alta della classifica. Sì, sì, noi continuiamo, siamo venuti qui per provare a fare risultato, nonostante comunque qualche indisponibile, però diciamo i ragazzi sono fatti trovare pronti. Io penso che, insomma, dopo tante vittorie è stata una battuta d'arresto, ma che sicuramente ci dà la carica per riprendere ancora più forti di prima sicuramente, quindi mancano poche partite e ce le giochiamo tutte. Il prossimo turno sarà molto impegnativo per voi, perché andrete ad affrontare il Baranello? Sì, ultimamente stiamo affrontando tutte le prime della classe. No, noi siamo pronti, giochiamo in casa, poi insomma davanti al nostro pubblico ci teniamo a fare bene, il Baranello comunque la capolista, quindi sono in un ottimo periodo di forma, penso che lo siamo anche noi, quindi sicuramente sarà una bella partita. Torna di promozione quest'anno molto avvincente? Sì, ti dico, non me l'aspettavo quest'anno perché, insomma, avendo fatto tanti anni la categoria, a volte, sai, diversi anni ci sono quelle due o tre squadre che prendono il largo. Quest'anno, devo dire, è un bel campionato, bello da giocare, bello da vedere, e sono convinto che comunque si deciderà le ultime due partite, quindi sarà vincente. Vi ricordiamo che la nostra emittente trasmetterà tra poco, esattamente dalle ore 16, in diretta sul Canale 18, la gara di calcio a 5 tra il Cus Molise e la Lazio. Domani, a partire dalle 15, seguiremo il derby tra il Venafro e l'Isernia, è possibile seguire la diretta anche sulla pagina Facebook del Canale 18. Ora le grafiche di prima e seconda categoria. Prima categoria, girone A, le anticipi, Alife Tammaro, Macchia Godenese Mignano, Sant'Angelo Limosano, Ala Fidelis e San Giovanni Ingaldo Carpinone. Domani, Domenico Desisto Campobasso, Rufre Pietramelara, Mirabello Volturnia, Riposa Pozzilli. Per il girone B, due, le anticipi, Biccari Gambatesa, Real Gildone, Audax Toro, domani, Casalidauni Colletorto, Castelmauro Roccavivara, Frentania Macchia, Maronea San Giorgio, Pietramonte Corvino, Ururi, Porto Cannone, Guardia Alfiera. Seconda categoria, girone A, due, le gare del sabato, Carovilli, Donca e Sagnone, Varanese e Fornelli, domani, Montenero, Limpicchi Sernia, Monteroduni, Pettoranello, Real Rionero, Sant'Angiolese, Castelpetroso, Pescolanciano. Girone B, un solo anticipo, Ripa Bottoni, Oratino, domani, Protermoli Fossaltese, Salcito, Festina, San Giuliano, Spesso, Torella Sant'Angelo, Civitate, Vinchiaturo. E chiudiamo con il girone C, due, le anticipi, Campo di Pietra, Sanniti, Campobassoro, Sieto, Fiamma, Folgore, domani, Celenza, Oro Nero, Riposerà, Lermestoro, San Marco Lacatola, Sant'Eliana e Tufara, Tifersagno. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport appena detto delle dirette, fra poco la diretta dal Pala Unimol tra Cus e Lazio, domani pomeriggio la diretta della partita tra Venafro e Sernia, tutte e due sul Canale 18. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani pomeriggio con A Tutto Campo, alle 14.30, insieme a Luigi Di Lallo e Benedetta Fazio, collegamenti dai campi dove giocano le squadre molisane. Alle 18 domani pomeriggio torna l'appuntamento con Domenica Sport, fatti, commenti, opinioni, interviste e qualche episodio alla Moviola relativi alle partite della Domenica. Alle 22 vi segnalo anche gli highlights, i gol della Domenica, sempre sul Canale 11 di Telemolise. Bene, è tutto, buon fine settimana. Bene, è tutto, buon fine settimana.